Ciao ragazzi, nuovo unboxing è arrivato da un bel po' di tempo, però non ho avuto tempo per unboxarlo perché stavo editando tanti video perciò non aveva senso unboxarlo e lasciarlo lì a puzzare nel mio pc perché sto facendo tantissime cose su tutti i pc che ho comunque, questo qua che me lo sono preso per una cosa importante e che cos'è la nostra bellissima nintendo switch perché mi stanno regalando la dock station che va messa qua qua l'alimentatore e qua il joypad della nintendo switch, il joycon, poi qui abbiamo il posto per i cavi è davvero bella e pesante e questa la uso quando devo andare a casa a mare e mi devo portare a nintendo switch ora penso che mi stabilisco, siccome esce Splatoon però lì non ho internet sono insicuro devo prima constatare com'è sto Splatoon nuovo mi hanno detto che c'è l'avventura e la carriera e si può personizzare il giocatore anche offline perciò la porterò a mare e giocherò proprio con Splatoon 2 c'ho cosa a dire ragazzi ora giorno 9 ci sarà il mio compleanno e ci sarà lo speciale insieme a mio compagno e Pippo dove Pippo? vabbè non spoileremo ragazzi ci vediamo a un prossimo video subito tra un secondo un secondo un secondo